Sul sul simmers E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Casa Supply Ebbene siamo avrete riconosciuto la casa siamo in campagna a Hanford e siamo con Salim e sua madre Zahira Salim per il momento ancora sta riposando mentre Zahira che diciamo è un po' più abituata rispetto a lui a questi orari insomma così mattinieri E' già pronta a preparare la colazione poverina è nemmeno andata in bagno perché tesoro con calma sa che a breve anche Salim si sveglierà Infatti eccolo qua e vuole far ritrovare la colazione pronta E si ho pensato di portarvi qui per mostrarvi un po' come se la sta cavando Salim Come trascorrono le sue giornate e appunto come trascorrono anche le giornate di Zahira Tesoro te lo proibisco Non prenderti la porzione Io lo sapevo che sarebbe accaduto Ma non prendertela Vieni qui E fai apparecchia la tavola Coperto informale Lo vogliamo fare Giallo? Dai facciamolo giallo Come il tappeto Come potete vedere ovviamente il nostro povero Nadir non è qui Perché è in ospedale Nella mia fantasia ovviamente No 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 Qua Qua Apparecchia qua Riesce ad apparecchiare qua? Ovviamente no Quando mai raga? Ovviamente deve apparecchiare tutta la tavola Non può apparecchiare dove uno le dice di apparecchiare Va bene Basta così tesoro Ora dovrei sparecchiare Sei contenta? Sparecchia va E collochiamo qua la colazione E questa tesoro mio La puoi riporre Così nel frattempo Salim caro Direi che è ora di alzarsi tesoro Salim si sveglierà E andrà A farsi la doccia Si laverà i denti E quant'altro E anche la nostra Potrebbe effettivamente Approfittarne un Giusto un attimino Quindi Potremmo mandarla nella sua stanza Al piano di sopra Che è questa qui E potremmo Le al bagno in camera Effettivamente tesoro mio Vieni Usi Ti fai la doccia E ne approfitti anche tu Per lavarti i denti Perché direi che è proprio Nessessere Questo è il bagno Vabbè raga Sta casa è enorme Tra l'altro Notare che qua Già si pensa a un nipotino Quando dovranno ospitarlo Eccetera E questo Immaginato Fosse La stanza di Salim Vedete c'è la scrivania No E beh sì E beh sì Perché è vero che loro Vivono qui Da non moltissimo tempo Però È anche vero che questa era già Una loro Casa Immaginiamo Sempre ereditata da qualche nonno No Sapete queste cose Salim Bello mio Io Porterei quantomeno alla cesta Il bucato E ovviamente Non mi vestirei in questo modo Farei Mcdresser Cambio outfit Perché il nostro Ovviamente Ha un outfit Dedicato Alla situazione Eccolo qua Il nostro Salim Che Da quando vive qui La scrittura Ahimè Non è che sia Proprio Come dire No Che si stia dedicando Proprio a questo In realtà Ultimamente Proprio per niente Perché comunque Sì ma da quando Vuoi dipingere tu Ozzi al lavoro Per essere pigro Va bene No Vai in cucina Piuttosto Aspetta tua madre Potresti Accomodarti qua Siediti Tra l'altro Qui avevo Sì avevo gestito bene La porta Ok La nostra Non c'è bisogno Che ti lavi le mani Tesoro Basta che ti fai una doccia Ti lavi i denti E poi anche tu Ti recherai in cucina Per fare colazione Insieme a tuo figlio E lui è qui Che la Che la La sta aspettando E mentre secondo me La aspetta Manda Un messaggino A Kami Quindi Invia un sms Per farle Ovviamente Sapere che Insomma La Sta comunque Pensando a lei No Immaginiamo Tipo Buongiorno Amore mio Io Sto per fare colazione E tra poco Mi dedicherò A Alla fattoria Tu come va Rispondimi ovviamente Quando puoi Quando sei sveglia Non ti preoccupare Insomma Un po' Ste cose così Quindi forza Lui è fiducioso Fiducioso che andrà Tutto bene Perché Suo padre Purtroppo Effettivamente È stato molto male Infatti Tuttora Ahimè Deve rimanere In ospedale È stata Come si suol dire Raga Una bella botta Quindi tesoro Siediti E fate colazione Io spero In modo Civile Prendi una porzione Salim Ti prego Resta seduto E prendi una porzione Anche tu E ti prego Resta seduta E Secondo me La nostra Ovviamente Gli chiederà Della giornata Ma immaginiamo Che della giornata Intesa come Hai dormito bene Tesoro Perché la giornata Insomma è iniziata adesso Ti prego Zaira rimani seduta Anche tu Non alzarti Allora tesoro Hai dormito bene Tutto bene Ti stai abituando A letto nuovo Perché immagino Che Salim Comunque abbia Cambiato letto Un po' come me Ragazzi Quando cambio letto È una tragedia E anche per Salim Magari no Io Salim Non so perché Ma me lo immagino Uno poi Dal sonno Molto leggero In realtà Quindi Sì Impara a conoscere Immaginiamo che Domanderà Mamma quindi oggi Di cosa dovremmo Occuparci Insomma C'è molto lavoro Da fare Come sempre La fattoria Però volevo Chiederti se Magari sai Per il weekend Di recenti Molti degli abitanti Delle parti di Informegli hanno avuto Bisogno di aiuto Sta dicendo lei Guarda Vediamo se c'è il volo Perché sai Da qui Non voglio Dirti Bugie Salim Io non so Se riuscirò Insomma A gestire Tutto da sola In questo periodo Perché Tuo padre Mi dà sempre Una grande mano Comunque con la fattoria E Inoltre Sta dicendo Allontanarsi un po' Dalla città Dal cibo spazzatura Sì perché lei Ovviamente Oasis Springs Per lei raga È la città Non è Come La vita No Più salutare Della campagna Diciamo Mamma Non vorrei Sembrarti un dinosauro Però Ho una moglie A cui devo anche Rendere conto Io sono qui Vi aiuto Con tutta La voglia del mondo Insomma Però Non vorrei Che questa situazione Prosciugasse energia Al mio matrimonio Come un pipistrello Capisci È che il mio matrimonio Insomma Andasse Esplodesse Ecco Non so come dirlo E lei tesoro Ma non dire sciocchezze Tu e Camy vi amate Questo è Soltanto un momento Di passaggio Sì Hanno bisogno di aiuto L'abbiamo capito Lui E lei Secondo me Dirà Ma scusa Non puoi Immaginiamo che Faccia Che lì di un altro sim Immaginiamo che Parlerà Di Camilla E domanderà A lui Ma non puoi chiedere A Camy Se ti può raggiungere Lei per il fine settimana Non sarebbe Molto più semplice Guardate lui Raga Lo sguardo Come per dire Mamma Veramente Sapendo come è fatta Camilla Mi proponi una cosa Del genere Beh Sarebbe più semplice Per tutti Mamma Camilla È la mia palla Al piede Siamo sposati No vabbè Non è proprio carino Da dire a lui Di la mamma Lo sai Dai Camilla Sotto questo punto di vista È un po' Una palla al piede Sai come la pensa Insomma Non mi ha nemmeno ancora risposto Per lei Venire qui Magari anche Con la pioggia Poi Ma perché piove Nel weekend Sì Beh la domenica Effettivamente Ammazza Salim Proprio è un lavoro Assicurato Come meteorologo Con la pioggia Poi Figuriamoci E poi ci sono i gatti Mamma Lo sai com'è Insomma È un po' complicato Per Cammy Venire qui E lei Salim Dai ora non ci pensiamo Siamo soltanto al mercoledì Ok Con calma Risolveremo anche questa Ok Intanto non è che andresti Un attimino a occuparti Degli animali Visto che hanno bisogno Sono già le nove Eh quasi le dieci A dire il vero tesoro Quindi vieni qui Iniziamo Sono calme Ma com'è possibile Che siano calme Non ci credo Indossa una tuta Da apicoltore Salim Mi raccomando Raccogli il miele Vieni qua Vedi di applicare La terapia antiacari Poi raccoglierai il miele Anche qui Queste come sono Sono calme Anche loro O Li gira il plambob Queste sono irritate Raga Li gira il plambob A queste Va bene Queste dovrebbero essere calme Ok Salim dai Dovrebbe essere una cosa Abbastanza semplice E quindi si La giornata di Salim Ha ufficialmente inizio Tra l'altro Ha perso anche Più tempo del solito Perché Voglio dire no Solitamente Inizia a lavorare Già dal mattino Presto Immaginiamo La nostra Metterà Riporrà Quindi metterà via La colazione Quindi facciamo Riponi Dopo aver lavato i piatti Rapporto sui diritti D'autore Va bene caro mio Che tra l'altro Poi dovrò Spostare queste finanze Insomma A casa vostra Perché Altrimenti I cami qua Si incavola Oh Ma che carino Chiacchiera Del coniglio Da congelatore Coniglio Selvatico Non sta aiutando Con il giardinaggio Ma perché Dovrebbe Ok va bene Facciamo poi Socializza Chiedi della vita Conigliesca E socializza Racconta una barzelletta Sulla guerra Delle marmotte Vabbè Non voglio nemmeno Saperne Dopodiché Lei inizierà A parlare Alle piante Perché Se non possiamo Fertilizzare O innaffiare Come minimo Si occuperà Di questo Ok Zaira Vai Occupati tu Del coniglio Salim come va Mi è sembrato Un attimino Di capire Di notare Un po' Di difficoltà A dire il vero Salim Tutto bene Queste sono calme Quindi prova a stringere Un legame Con le api Stringi un legame Con le api Applica la terapia Antiacari Vedo che qui Non è potuto farlo Forse per via Della tuta E vediamo un po' Salim Tutto bene Eccala Ovviamente no Raga Ovviamente no E quando mai La vita In campagna Può andar bene Salim Ma tu Sei abituato Però Hai trascorso La tua vita In campagna Mamma mia Raga Lo vedo malissimo Salim Lo vedo veramente Messo male Poveraccio Attaccato dalle api Salim Ti prego Forse era meglio Occuparsi delle mucche Delle galline Non lo so Vabbè Lui ci prova O giustamente È stato tra l'altro Anche punto Kami non si fa viva Sono le 10 e 40 Di solito Quando si mandano Un sms Rispondono Praticamente subito Kami ancora Non si vede Non si vede luce Da parte di Kami Com'è andata Con il coniglio Qua Chiacchierato Con un coniglio I conigli Sono ascoltatori Molto attenti Hanno due grandi orecchie Per sentire meglio Zaira Non sono però Molto loquaci E beh Vorrei ben vedere Pellicina Per il tratto delicato Sì perché poi lei Raga in realtà Fa questa vita Ma appunto Ha il tratto delicato Quindi è una persona Che tende Ha una salute Molto fragile Zaira E quindi È per questo Che Salime Deve stare al suo fianco Coniglio comico Per aver raccontato Una barzelletta A un coniglio Che avrebbe detto Che i conigli Avessero un senso Dell'umorismo Così spiccato Meno male Spettegola sul coniglio Floreale Va bene Spettegoliamo Dai Socializziamo Socializziamo Vediamo se possiamo Gli chiediamo Come va E vediamo se possiamo Anche Accarezzarlo Perché vorrei Dargli un nome Quindi vediamo Un po' Lei si magari Si dedica al giardinaggio Che non è che sia Poco impegnativo Per carità Però in un certo Qual modo Lavorare la terra Ecco magari Lei si occupa Giusto di queste piante Qui Non si occupa di Per esempio Degli animali Perché è troppo Faticoso per lei Allora Tocca a te Caro mio Vieni qua Direi che pulisci Il pollaio Spargi il mangime Intorno a te E raccoglierai Anche le uova Tra l'altro Le galline Vi ricordo Oscar Emily E Agatha E tra l'altro C'è anche Virginia Autori Ovviamente Raga Perché i nomi Li ha scelti Salim Vai Salim Vediamo poi anche qua Perché dobbiamo Riempire di mangime E pulire il capanno Quindi Jane Tesoro Devi uscire Prima o poi Da lì eh Non per farmi Gli affari tuoi Ma Dovresti Oh Lei nel frattempo Parla con le piante Sì Lei Purtroppo Ripeto Per la salute Che ha Non può farsi carico Di troppe Di impegni Troppo gravosi Oh qui c'è un altro Coniglietto Amore Piccolo Dai Poi Zaira Vai anche qua Però Facciamo un coniglio Per volta Perché altrimenti La vedo tragica Dai Zaira Che poi dovrei farlo Con tutte le altre piante Mi raccomando Salim Ma dove Cappero Io lo metto fuori adesso Un secchio Salim Dove Cappero Stai andando Ma dov'è il secchio Qua Salim Qua No raga Assolutamente no Dobbiamo Andrà a lavorare Fra circa un'ora Eh no Al momento no Anche perché Non ha nemmeno scritto Dei libri Quindi Salim Fermati un secondo Immaginiamo che Salim In questo periodo Sia in ferie Perché Altrimenti Non Non ce la può fare Non ce la può Veramente fare Quindi Lavoro Non ha alcun giorno Di vacanza Mamma mia Ma che due scatole Allora Prova A fingersi malato Vediamo un attimo Più che fingersi malato Magari facciamo Che dirà Al suo Editore Mi dispiace Si lo so Sono indietro con il libro Ma Mio padre Non sta bene Capisci Non posso Non posso proprio In questo momento Dedicarmi al libro Lo so So anch'io Di avere delle scadenze Mi dispiace saperlo Rimettiti presto E lui Oh Meno male Dirà Guarda Mi dispiace Però devi capire Che anche noi Abbiamo investito Del danaro Cioè ci sono Delle scadenze Da rispettare Quindi Per cortesia Raccogli la farina Di grillo Mamma mia raga E nutri i grilli Dopodiché Qua abbiamo Raccogli il pasto Di larve Mai una gioia E nutri le larve Ok Come va Col coniglietto Tesoro Amore Dagliamogli un nome Parla Della lanugine Ma di che cosa Capro Cosa stai facendo Zaira Chiedi cosa Sognano i conigli Oh Che amore Che amore Ma guardatelo Ma guardate Quanto è tenero Quindi Si diciamo Che Ci sono anche Poi questi animaletti Diamo un nome Al coniglio Selvatico Trifoglio Carino il nome Trifoglio Mi piace Dai Lasciamo Trifoglio Che adorabile Che è Vediamo Ma li possiamo Accusa di essere una piaga Ma perché povero Salima raccolte I seguenti oggetti D'allevamento Un pasto di larve Ma che gioia Guarda Cara Veramente una gioia Acquista una mucca Un pollo Un lama Nel tuo lotto Di residenza Ma C'è la mucca Tesoro È qui Chiama da te Jane Ce l'hai la mucca Deve essere Buggata Sta Sta cosa Raga Perché altrimenti Non si spiega Vuoi acquistare un pollo Vediamo se possiamo Acquista polli Facciamo Un'altra gallina bianca Dai così Dai capienza del pollaio Facciamo un'altra gallina bianca Ha sbloccato la ricetta Dei dolcetti amichevoli Le informazioni Sul dolcetto amichevole Per animali Sono state inserite Nel taccuino di Zaira Aprilo per saperne Di più E visita i quartieri Di Finchwick Vabbè Questo poi Piano piano Zaira Nei prossimi giorni Andremo Ma ora La gallina dov'è? Cioè Ce l'ha subito Portata qua? Vabbè Ora vedremo Uscirà penso Prima o poi Comunque Salim Uh c'è un altro coniglietto Guarda Zaira Chiacchiera degli ecosistemi floreali Bellissimo Socializza possiamo fare Chiedi del bosco Socializza possiamo fare Racconta una Barzelletta sul saltellare Ma va bene Ora Salim Chiama da te Jane Per favore Perché Così riempiamo di mangime Puliamo anche il capanno Insomma La vita di Salim È drasticamente cambiata Oggettivamente Dobbiamo anche occuparci di lei Quindi puliamola poi Mi raccomando Salim E dobbiamo mungerla Eh sì È drasticamente cambiata La vita del nostro Salim Non è facile Tesoro Però dai Potresti andare a Spargere il mangime intorno Quanto meno Questo ce la fai a farlo Zaira no? Sei fragilina però Insomma Dai un nome al coniglio selvatico Paco Va bene dai Conigli diamo il nome così Vai Dai che Hanno fame Poverini Gallina bianca Dobbiamo dare un nome anche alla gallina Maple Sono indecisa in realtà Sono un po' indecisa Fatemi pensare Allora Sto proprio cercando Autrici anche Inglesi famose Vediamo un po' Perché ora non mi viene in mente nessuno Il livello di nomi intendo Abbiamo Charlotte Dai Facciamo Charlotte Vai vai Charlotte Charlotte Bront Che ricorda anche la nostra Charlotte Ok Vai Hai dato da mangiare? Spargi il mangime intorno a te Poi con molta calma Dovresti rastrellare le foglie Perché insomma C'è veramente un casino atroce Mi raccomando Fatemi vedere Salim Però Perché è Salim La novità Stai pulendo Salim No patata dai Dobbiamo pulirti Ti prego Ha trovato un fertilizzante vitalità Ma davvero Dentro la cosa della gallina No aspetta Salim Ti prego Molla qua Devo mettervi un secchio Ora lo faccio Promesso Molla lì Cioè Penzomi Salim Perché non è possibile ogni volta farsi Effettivamente no L'ha traversata Non esiste sta cosa Dov'è? Qua Te ne prendo uno Tanto ne Cioè ne basta uno E lo potremmo mettere Vediamo Io lo vorrei ecco Tipo qua Facciamo Così Visto che ti ho interrotto io Salim Abbi pietà Ci penso io a questo La nostra invece sta Rastrellando Non vuole uscire? Dai patata Esci Sta mangiando Forse Riempi ancora di mangime Salim Dai Che vedo che Già Un pochino È sceso Perché sicuramente La nostra aveva fame Oh dai È uscita Oh Forza Puliamola Cerchiamo di socializzare Anche un po' Quindi Dai qualcosa A Jane Va bene Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Grazie a tutti.